Musica Bella ragazzi, rieccoci qui con la mia hack Oggi vi voglio far vedere le prime tre città Allora, se noi andiamo qua Salviamo, entriamo nel gioco Vi voglio far vedere tutta la intro e le prime tre città che ho creato Allora, appena si sbriga a partire, iniziamo il tutto La intro è tutto da leggere, sto gioco ragazzi Perché penso che sia uno dei miei capolavori più belli Poi ragazzi, appena finirò il gioco lo scaricherò, eccetera eccetera Allora, quello è quello che sto usando io per prova Allora, iniziamo una nuova prova Questo gioco è altamente pericoloso, si è ancora in tempo a spegnere Ok, il gioco è partito Ciao, scusa se ti ho fatto attendere Benvenuto su Pokémon Lito L'Italia, l'h Pokémon più pazza Il mio nome è Mr. Rock Ma per tutti sono il professore Pokémon Questo mondo è abitato da creature Chiamate Pokémon, i Pokémon vivono con noi Bla bla bla, bla 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 Purtroppo il nostro mondo è stato invadito da dei personaggi chiamati Team Lilla Tu dovrai scuovare le loro basi ambientali Per il bene della tua amata città Invece riguarda me, io sono uno studioso di Pokémon, su tutto di loro E per questo me ne vanto Mica per niente, ho fatto 5 anni alla Bocconi Bene, ora raccontami un po' di te Qua potrete fare il maschio e la femmina Io faccio il maschio perché è comunque una prova Ottimo, posso sapere il tuo nome? Certo, F, E Ok Ti chiami veramente così? Eh sì, è colpa mia se mi chiamo così Ok Ah, dimenticavi iniziare a casa tua a bustarsi Le prime tre città Ovviamente ragazzi, io già sono andato avanti Quindi oggi vi faccio vedere le prime tre città mie Già da comunque dove sono io Allora Questo è il percorso per andare verso Legnano Avete la bicicletta Qua come vedete c'è la riserva dei Pokémon Dove trovate Pikachu Psyduck di tutto Troverete Pidgey Però non li potete prendere Poi andate da qua e si dice Meno male che i treni ci mettono poco ad arrivare Se no sarebbe una scocciatura Qua ragazzi, io l'ho già fatta Ci sarà una ragazza qua dentro Che se voi direte di sì Questa ragazza vi regalerà Cioè vi regalerà Dovrete sconfiggere un Pokémon E dopo ve lo regalerà Allora, qua sotto troverete Pidgey e Pikachu Qua sotto Poi se andate di qua Questa è la stazione di Legnano Vedete? Ciao Angela, posso vedere il biglietto Arrivi, Varese, tutti gli orari Poi andate di qua E andate a Legnano Ok, qua c'è il punto SNAI Il lavoro in corso Qua ci sarà il signortaglio Che ancora dovrò fare Qua ci sarà la palestra di Brock Ragazzi Io vi consiglio di usare come primo Pokémon O acqua O erba Perché il primo allenatore È un allenatore di tipo roccia Quindi E poi comunque i Pokémon saranno a livello 10 Partirete con i Pokémon a livello 10 Ok, non so se andare in macchina o in treno Va bene Andiamo di qua Ovviamente scherzo Si vede dalla faccia che sai Non sei bustocco Qua ci saranno tutti I... Quelli del team Lilla Però saranno tranquilli Quindi non mi faranno niente Qua guarderanno la loro partitella Vedete? Passale in mezzo Sta cavolo di palla Adesso vi faccio vedere Anche il pezzo finale E dopo ragazzi Andrò avanti con stack Sarà lunghissima Questa è legnano Comunque Poi qua ragazzi Ci saranno i due del team Lilla Io ho già sfidato tutti Quindi Non me li sfiderò più Qua ci sarà il Pokémon Il Pokémon Center Apposta Perché Come voi vedete Appena scendete da Appena uscite Da Booster Seeds Ci sono subito Questi quattro allenatori qua E dopo Ci saranno anche I due team I due allenatori Del team Lilla Qua c'è il Ponticello E qua si va Dalla vostra Prima città Voi iniziate da qua Come vedete Percorso 1 Booster Seeds Legnano Qua troverete i Pokémon Vediamo la bimbetta Che ci dice Ehi Pirla Non andare nell'erba alta Questo è un parco Ragazzi Come vedete Parco Ugo Foscolo Sono tutti i ragazzi Nomi comunque Di vie O di città Che esistono Anche il parco Esiste Qua nella mia città Invece ora A guardare Busso Mi viene malinconia Poi parlerete Con tutte le vecchiettine Qua Comunque penso Che sia una bellissima Acc Mi è uscita Bene 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 Qua è Chiusa Porta chiusa Market E laboratorio Pokémon Ok ragazzi Spero che vi sia piaciute Queste prime tre città qua Commentate sotto Che ne pensate Dalla mia hack Ve l'ho fatta vedere così Perché comunque Io la maggior parte Le ho già completate Come Come cose O come Sfide Comunque I Pokémon qua Saranno Da livello 10 Partiranno Come vedete Troverete Tutti i Pokémon Ragazzi Vedete Io ho trovato Pidgey Wartor Perché ho iniziato Con Squirtle E Chandler Che me l'hanno dato Un po' più avanti Però non vi sto a spoilerare Tutto Ok ragazzi Un saluto Dal percorso 1 E da FF Channel Bella boys Bella girl Ciao